Le sfide difficili mi hanno sempre entusiasmato. Io credo che un anfiteatro non può restare sotto una strada. Così il primo cittadino di Capaccio Pestumo, Franco Alfieri, si esprime sul recupero dell'anfiteatro romano seppellito per metà sotto l'asfalto nella città dei Templi. Sarà un importante intervento di recupero e di riqualificazione, sottolinei Alfieri, che permetterà però di ospitare nell'antico anfiteatro eventi culturali e musicali. Le cose difficili a me mi entusiasmano. Innanzitutto abbiamo espresso una volontà, quindi l'amministrazione Alfieri ha espresso la volontà di recuperare, di mettere in piena luce tutto l'anfiteatro. E quindi, certo, è una cosa ambiziosa, costosa, difficile, ma io credo che un anfiteatro non può restare sotto una strada. E quindi faremo due cose. Restituiremo l'anfiteatro al suo splendore e nello stesso tempo avremo un anfiteatro che può ospitare degli eventi musicali e culturali. Quindi è una cosa sulla quale ovviamente ci misureremo, ma non da soli. C'è necessità di un intervento del Ministero dei Beni Culturali, della Regione, ma è una cosa che vogliamo fare. E soprattutto dobbiamo lavorare su tutta Via Magna Grecia. In realtà Via Magna Grecia non può essere la strada di accesso al parco archeologico. Via Magna Grecia è già parco archeologico, quindi dobbiamo lavorare un sistema di parcheggi esterni. Già ci stiamo lavorando. Via Magna Grecia è parco archeologico e nel parco archeologico ci deve essere l'anfiteatro. Porta Aurea che è stata pochi giorni fa riscoperta per scavi di lavori da parte dell'Enel. Quindi ci sono tutta una serie di cose che dobbiamo fare, che sono difficili, ambiziose, complicate, complesse. Ma credo che i problemi se sono affrontati si risolvano.